Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ben ritrovati ancora di nuovo nel disordine della mia libreria da me e da questo libro che oramai dovreste aver riconosciuto abbastanza bene. Gli aerei della seconda guerra mondiale, dell'unione sovietica e delle aviazioni minori di Angelucci e Matricardi. Angelucci e Matricardi, famosi studiosi della storia dell'aviazione che negli anni 70 concepirono una delle più importanti opere divulgative sulla storia dell'aviazione, i famosi volumetti della Mondadori. Vi ricordate, ho parlato recentemente dello IAR-80 rumeno, eccolo qua, ve lo ricordate? Nell'ultimo video ho parlato dello IAR-80 rumeno e ora vi parliamo del suo progenitore, ovvero sia il PZLP24G. Eccolo qua, con la sua inconfondibile ala con la pianta alare ad ala di gabbiano, eccolo qui, eccolo qui, il PZLP24, uno dei più importanti caccia del periodo anteguerra perché, come dire, questo caccia prodotto in la famiglia dei caccia PZL prodotta in Polonia dalla, scusate il mio polacco è orrendo, spero di non sbagliare, dalla Panstuowe Zaklady Lotnice, ovvero sia la fabbrica aeronautica di stato polacco, la PZL, costruì una serie di aeroplani ad ala di monoplani, ad ala di gabbiano e carrello fisso come questo qua, eccolo qui, PZLP24, assolutamente riconoscibile, ecco qui, che come vi ho già detto fu utilizzato come base per creare l'OIAR-80 rumeno. Diciamo che questa formula, questa formula di transizione tra il monoplano e il biplano, tra l'arcaicità del carrello fisso e la modernità del monoplano, fu un'evoluzione di una serie di aeroplani concepiti dal progettista Zygmunt Poloschki, che fino al 1931 era il capo progettista della PZL. Il capostipite dell'intera famiglia era stato il modello P1 del 1929, al quale erano seguite nel 1930 e nel 1931 le versioni P7 e P11. Il P24 rappresentò il naturale sviluppo che fu realizzato per il mercato estero. Il primo prototipo volò per la prima volta nel maggio del 1933 e dopo una lunga messa a punto il caccia mostrò le sue qualità il 28 giugno 1934, quando il secondo esemplare, pilotato dal capitano Bojezlaw Orlinski, toccò i 414 km orari e stabilì il primato internazionale di velocità per la sua categoria. Oggettivamente c'è da dire che non erano prestazioni da poco per un aereo con una aerodinamica così arcaica. Questo è un esemplare di PZL P24 dell'aeronautica turca. Ok? Allora, dicevo, il PZL P24 venne quindi definito praticamente all'unanimità come il più veloce e meglio armato intercettore al mondo, perché aveva due mitragliatrici e due cannoni da 20 mm e aveva anche una certa efficacia come attacco al suolo perché aveva anche la possibilità di portare 100 kg di bombe. Dicevo, l'intera produzione del P24, ossia circa 300 esemplari, compresi 9 prototipi, dicevo, di questi 300 PZL P24, 150 furono, come dire, passati alla Turchia, furono anche costruiti su licenza in Turchia e vennero anche costruiti in Romania, come ho già detto e ripeto. Il PZL P24 servì come base per lo sviluppo del ben più prestante e anche se vogliamo dire ben più bello, IAR-80. Dicevo che praticamente ci furono anche i caccia PZL furono diffusi anche in altre aviazioni minori come per esempio quella greca e quella bulgara. Nel 1939, alla vigilia dell'invasione tedesca, dell'invasione tedesca della Polonia, la PZL aveva ordini accumulati per altri 190 P24 e tra i nuovi acquirenti c'erano l'Estonia, la Finlandia, l'Ungheria e la Jugoslavia. La famiglia dei caccia PZL ad ala di gabbiano, ripeto monoplano, ad ala di gabbiano controventata e carrello fisso, fu dovuto, questo grande successo, fu dovuto essenzialmente all'originalità della formula e alle eccellenti caratteristiche complessive dell'aereo perché era un aereo estremamente facile, estremamente piacevole da pilotare. Queste caratteristiche eccellenti apparvero evidenti fin dall'esordio del primo prototipo in assoluto progettato da Pulaski, ovvero sia il modello P1 che iniziò le prove di volo il 25 settembre del 29. Il caccia era dotato di un'ala del tipo a gabbiano che aveva lo scopo di migliorare la visibilità del pilota, aveva struttura e rivestimento interamente metallici, una novità per l'epoca, carrello principale con ammortizzatori oleopneumatici. La propulsione era affidata ad un ispano suisa da 600 cavalli che lo spingeva a 300 km all'ora al livello del mare. Molto buone erano le doti di maneggevolezza e di velocità in salita. Nel 1930 il P1 venne presentato al concorso internazionale di Bucharest e si dimostrò superiore ad alcuni tra i migliori caccia dell'epoca, quali il francese De Voitain 27, il Fokker D15 olandese e il Bristol Bulldog britannico. Il P1 tuttavia non andò mai in produzione, visto che le autorità militari insistettero per l'adozione di propulsori radiali. Vennero quindi realizzati altri due prototipi, il P6 e il P7 e alla fine venne prescelto quest'ultimo che volò nell'ottobre 1930. Venne denominato P7A e venne dotato di un motore Bristol Jupiter 7F che era costruito su licenza dalla Skoda, le ottime capacità industriali della Cecoslovacchia. Il P7 fu completato in 150 esemplari che iniziarono a prestare servizio dal 1932. Nel 1933 l'aviazione militare polacca era diventata la prima aeronautica al mondo ad avere la sua linea di caccia dotata interamente di monoplani metallici. Ebbene sì, ebbene sì, anche se con soluzioni arcaiche, anche se con soluzioni superate come la controventatura, come il carrello fisso, l'aeronautica polacca fu la prima a mettere in servizio una linea di caccia montata esclusivamente su aerei monoplano e con struttura e rivestimento metallico. Che non è male, diciamo. Allora, Pjolanski purtroppo morì il 31 marzo del 31 in un incidente aereo e il nuovo progettista Zewolod Yakimuk sviluppò il successore del P7 e questo aereo si chiamava P11 che esordì in volo nel settembre del 31. Modificato strutturalmente, meglio armato e dotato di un motore più potente, ovvero sia il Bristol Mercury 4S2 da 500 cavalli, il P11 andò immediatamente in produzione e in diverse varianti, sempre migliorate, venne realizzato in 225 esemplari dalla PZL e in una settantina su licenza dalla IAR rumena. Il servizio nell'aviazione militare polacca ebbe inizio nel 34 e al momento dell'invasione tedesca 12 squadriglie da caccia erano dotate di P11C. I 114 che andarono perduti riuscirono ad abbattere 120 aerei tedeschi perché nonostante le apparenze e nonostante l'aviazione polacca fosse stata sorpresa quasi interamente a terra, i caccia polacchi diedero molto filo da torcere, soprattutto agli Stuka. I PZL erano un osso, se trovavano un tedesco abbastanza fesso da affrontarne in dogfight in combattimento ravvicinato, il PZL con la sua buonissima maneggevolezza era un osso molto duro da rodere e soprattutto si divertì molto con gli Stuka e i Mesh Smith 110 ai quali girava attorno come una trottolina. Dicevo, il PZL P24 invece, l'aereo di cui parliamo, venne impiegato soprattutto dall'aviazione greca negli ultimi mesi del 1940 e nel 1941 contro la Luftwaffe e contro la regia aeronautica. In pratica i nostri Fiat G50, Machi C200 e Fiat CR42 in Grecia se la videro con questi aerei. Questo è un aereo con le insegne dell'aeronautica militare greca, la Polemichi Aeroporia. La famiglia dei caccia PZL va detto che fu indubbiamente uno dei più grandi successi di produzione ed esportazione in Europa. Molte aviazioni minori lo ebbero in dotazione ed era un aereo che per l'epoca era sicuramente all'avanguardia, poi venne superato dai caccia Polikarpov I-16, dal Mesh Smith 109, che fecero scuola. Ma il primato, l'indiscutibile primato dell'aviazione polacca come prima, come primissima forza aerea al mondo ad avere in dotazione esclusivamente monoplani da caccia interamente metallici è un primato che nessuno gli può togliere. Il PZL P-24 con il suo pesante armamento, con le sue ottime caratteristiche di volo e con le sue caratteristiche che tutto sommato erano abbastanza moderne, fece la sua piccola parte in guerra anche se oramai era un aereo decisamente superato. Ma vabbè, parliamo noi italiani col CR-42 e tra l'altro, notate bene, gente, notate bene, aereo a capottina chiusa, aereo a capottina chiusa. Noi nel 1940 i nostri piloti non volevano la capottina chiusa perché non sentivano il volo, non sentivano l'aria e avevano paura di non riuscire a lanciarsi col paracadute, per dire. Insomma, signori, la famiglia dei caccia PZL. PZL P-24, il più moderno di quella famiglia, uno sicuramente il meglio riuscito, quando scoppiò la seconda guerra mondiale era indubbiamente, senza dubbio, ormai ampiamente superato, ma fece la sua parte in guerra, fu un osso molto duro ad erodere per i nostri caccia, per i nostri aerei e si dimostrò un aereo dalle eccellenti e splendide caratteristiche, considerato il fatto che si trattava di un progetto che era l'evoluzione di un aereo che risaliva ormai alla fine degli anni venti. Insomma, l'interessante famiglia dei caccia PZL. Quindi, cari signori, adesso tocca a voi, commentate qua sotto, commentate, 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 fatemi sapere che cosa ne pensate e, come sempre, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi, commentate qua sotto e arrivederci al mio prossimo video. Ciao!